Musica Eh? Ci siamo? Stai provando il microfono Provalo bene il microfono Adesso fra un po' Piero inizia Sei pronto Piero? Sono pronto Scusa 1, 2, 3 1, 2, 3, prova 1, 2, 3 Funziona bene? Ti senti pronto all'uso? No, io sono pronto all'uso Mi stai agitando Mi stai mettendo in uno stato di agitazione Io ho una marea di argomenti da sviluppare Con te davanti con questa mimica Mi perdo Senti, tu cancella tutto per cortesia Non registrare adesso Perché questo è un soggetto pericoloso Non registrare, tu sei una persona seria No, no Dicevo Ti stavo dicendo di non registrare Mi raccomando Non registrare Sì, non registrare Poi Guarda La mia immagine dipende da quello che tu stai facendo Comunque siamo pronti a registrare Ok Funziona il microfono Vai Si gira Mettimi in onda che te lo dico io Mettimi in onda che te lo dico io Qua è la cosa più buona che trovi In tutto il mondo della Sardegna Bravo Ma questo lo devi spedire anche in Africa, cazzo Perché le donne vanno via Perché le donne vanno via Perché le donne vanno via Perché Adesso vi faccio finire il mal di mare C'è Ma dice che stanno facendo questo programma Zapping Dove fanno tutti gli errori Sbagliato Amici mettete dentro E metti Dai Su zapping Tutti i giorni lo danno Però cercalo me Sempre su teleregioni Sui favoriti Zapping C'è Uno, due, tre Zapping Ciao a tutti Appuntamento la prossima volta Da Zapping Buona fine estate Mi scappa la cacca Sinceramente Non manca niente Si sa mai Ho visto l'età Ascoltateci Sì 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 Sì